Ok ragazzi, benvenuti in un nuovo podcast, come sempre ho messo la mia domanda in un post di Instagram e quindi andrò a prendere le vostre domande proprio dal post stesso, le sto caricando adesso in questo momento un'ora di tempo, vediamo un attimo di registrare e rispondere a quante più domande possibili Allora, partiamo subito, Mattia Migale chiede, ciao Ludo, premesso che da quando lavoro con i top set mi sto trovando alla grande mi chiedevo se fosse utile lavorare con top set, magari in esercizi come il calco, il bilanciare eccetera Ok, questa in realtà è molto interessante come domanda perché vedo che mi viene fatta spesso innanzitutto c'è molta molta confusione sul concetto di top set, di in set e tutto ossia molti preparatori, molti tecnici attualmente stanno lavorando con questo concetto di loading set più back off e viene visto un po' come il mantra, la chiave di tutto, va un po' di moda diciamo però ci sono molti misunderstanding Allora, innanzitutto, da un punto di vista sintattico se vogliamo, da un punto di vista di linguaggio il top set è diverso da quello che è il loading set ossia che cos'è il top set? È il concetto per cui quando io ho un esercizio sarà solo una serie, appunto il top set di questo esercizio ad essere determinante per gli stimoli che creo quindi nella maggior parte dei casi quando parlo di top set io faccio una sola serie allenante un po' levy duty alla Metzner quindi una sola serie allenante per quell'esercizio poi eventualmente ci possono essere degli schemi di accumulo di fatica per cui per esempio faccio un ramping sulle otto ripetizioni finché non raggiungo il cedimento molte persone potrebbero dire ok, però ho fatto tante serie da otto le ultime anche abbastanza difficili è vero che il cedimento l'ho raggiunto solo sulle ultime però le serie prima sono allenanti, quello che volete però il concetto è uno schema di accumulo di fatica in cui effettivamente la serie portata al cedimento all'estremo è soltanto una, l'ultima oppure di nuovo faccio un top set e poi dopo inserisco un lavoro metabolico, molto molto metabolico che non vuole essere tanto uno stimolo quanto piuttosto un accumulo di sangue la creazione di un certo environment, di un certo ambiente biochimico sfruttando quell'esercizio quindi in realtà il top set, quello che mi interessa veramente è semplicemente il primo per cui questo poi le forme che normalmente si vedono sono quelle di utilizzo del concetto di loading set del concetto di back off ora, il loading set è la serie pesante in generale che può essere sia la prima serie come avviene spesso in realtà ossia faccio un determinato warm up e poi alla fine faccio il mio loading set quindi la mia serie pesante ma può essere anche un discorso inverso ossia faccio una serie un po' più leggera in qualche modo quindi faccio una serie per esempio sulle 12-15 poi aumento il carico e faccio il mio loading set che è uno schema che viene utilizzato per esempio negli esercizi in cui voglio dare più importanza perché sono più fresco logicamente a un rep range alto perché non è detto che io la massima importanza debba darla a un rep range più basso pensate a un axe squat, ok? immaginate di avere una rotazione, una sessione di gambe in cui caricate tanto e poi fate un back off e in un'altra rotazione avete sempre questo axe squat e dite, ok, in questa rotazione magari ho iniziato facendo uno squat una pressa molto pesante non voglio sovraccaricarmi troppo non voglio raggiungere carichi troppo eccessivi quindi faccio prima una serie sulle 12-15 ripetizioni e poi dopo faccio un loading set carico un filo di più vado sulle 8-10 ripetizioni vado sulle 5-8, quello che volete però non sarà mai un carico un loading set come fatto come prima serie sarà un po' più blando però do sempre quello stimolo però do prevalenza a un altro rep range, ok? quindi questo è un discorso per cui non è necessario è efficace il discorso di fare un loading set e poi un back off non è questa la chiave di volta e arriviamo al back off il back off è proprio, diciamo nasce con questo schema ossia lavoro pesante poi scarico leggermente e faccio un'altra serie un po' più leggera qual è il vantaggio? che dopo una serie pesante generalmente sentirò il carico leggero ancora più leggero e verosimilmente è uno schema che mi permette di mantenere un'ottima performance se no una performance invariata sul mio back off quindi sul mio, in questo caso possiamo dire sul mio 12-15 RM quindi riprendiamo ad esempio della X-Quot vado a fare una serie sulle 5-8 scarico leggermente e faccio la mia serie 12-15 in realtà se l'avessi fatta all'inizio probabilmente la performance sarebbe stata la stessa perché sulla mia serie 5-8 ho dato uno stimolo innanzitutto diverso quindi sono affaticato soprattutto da un punto di vista neurale ma poi mi sono abituato a un carico pesante quindi questo carico un po' più leggero lo sentirò ancora più leggero ora, la domanda di Mattia scusa Mattia se ho divagato però ci tenevo a fare un po' di spiegazione iniziale in ogni modo non è che il top set il back off o comunque il loading set siano la chiave di volta bisogna sempre contestualizzare queste metodiche prevedono che voi siate in grado di esprimere tanta intensità e tanto carico in poche serie quindi è un qualcosa che ad esempio l'ho spiegato spesso su Rino Nation diciamo che è un po' più un lavoro da intermedio barra avanzato non avanzatissimo perché per l'avanzato avanzato probabilmente ci sono lavori migliori però diciamo è quel lavoro che ti permette di dare di più quando le serie iniziano a diventare molto tassanti allora se la serie è allenante effettivamente tassante conviene lavorare con una riduzione del volume e fare questo gioco di top set oppure loading set e back off oppure carico più leggero e poi loading set eccetera però non è la chiave di volta in assoluto sicuramente ci sono altre metodiche ora Mattia per quanto riguarda il carcom bilanciere allora io personalmente credo che un top set possa essere fatto perché attenzione il top set non è necessariamente pesante io posso avere un top set anche molto metabolico quindi per esempio l'altro giorno come top set sul car di bicipiti ho preso un bilanciere da 20 e sono arrivato a cedimento alle 50 ripetizioni nel senso che ho fatto un targeted response arrivato a cedimento riposavo 5-10 secondi senza staccare mai senza mollare ma il bilanciere ma rimanendo in basso ripartivo 5-10 secondi eccetera fino ad arrivare alle 50 è un lavoro molto metabolico ho riagganciato il bilanciere basta done per quell'esercizio ho fatto quindi è un top set però non è pesante viceversa lavori molto pesanti su in qualche modo carcom bilanciere quindi su esercizi più di isolamento a me non piace perché non è la soluzione ideale sul lungo periodo quindi anche se da un punto di vista prettamente muscolare può portare sicuramente porta tanti benefici da un punto di vista di longevità sul lungo periodo non è assolutamente la soluzione ideale quindi per questa ragione generalmente il mio consiglio è quello di cercare di lavorare magari anche con top set magari anche con loading set e back off però sul rep range sicuramente molto più blandi e essendo distretti abbastanza prestanti da un punto di vista di recovery di recupero e che non impattano comunque troppo da un punto di vista del sistema nervoso centrale non è necessario ridurre troppo il volume per singola sessione per singolo esercizio quindi sono in realtà esercizi quelli di isolamento per le spalle per i bicipiti per i tercipiti in cui per i tercipiti magari una deep spesante non no però sono esercizi in cui tendenzialmente tendo a stare su lavori un po' più voluminosi quindi un po' più di serie e lo potete vedere leggendo semplicemente quello che è il mio log su Rino Nation ok Manuel Bonavoglia chiede ciao Ludo consigli per chi si autogestisce in allenamento in particolare quando utilizzare tecniche di intensità allora le tecniche di intensità in realtà sono tantissime ci sono fini diversi scopi diversi se lavori autogestisci non so se intendi che lavori senza spotter oppure semplicemente non hai un preparatore comunque generalmente il concetto diciamo alla base della maggior parte delle tecniche di intensità è quello di aumentare i failure point e le effective reps cosa vuol dire immaginiamo che io prenda un 12RM vado a cedimento sulle 12 ripetizioni ok perfetto mi fermo avrò un solo failure point quello relativo al mio cedimento finale e le effective reps ossia le ripetizioni effettivamente efficaci che effettivamente efficaci che mi portano in pertrofia sono le ultime 4 o 5 o qualcosa del genere ok perfetto se io adesso recupero 20 secondi e sparo altre 4 o 5 ripetizioni che cosa ho fatto ho raggiunto un altro cedimento quindi ho verosimilmente creato un altro failure point ho creato nuove effective reps in realtà ho il vantaggio che queste nuove effective reps perché sono molto vicine al cedimento non abbiano bisogno di un accumulo di fatica di ripetizioni inefficaci ossia se io arrivo al cedimento sulle 12 c'erano magari 4 efficaci le altre 8 sono preparatorie di accumulo di fatica per rendere le ultime 4 efficaci se io faccio un respose quindi aspetto 20 secondi e riparto ho già accumulato fatica quindi tutto quello che faccio è efficace per creare ipertrofia quindi il vantaggio delle tecniche di intensità è che aumento il failure point aumento le effective reps senza aggiungere una serie in più quindi senza avere quella mole di lavoro costituita dalle ripetizioni che mi accumulano fatica e che rendono le ripetizioni efficaci efficaci e il failure point efficace quindi sostanzialmente disperdo meno energie per dare poi alla fine lo stesso stimolo o quantomeno molto vicino però è lo stesso stimolo soltanto cioè è un ragionamento che ha senso quando di nuovo iniziate a rendervi conto che la singola serie è molto tassante per voi quindi aggiungere una serie in più è molto tassante che cosa faccio conviene che aggiungo una tecnica di intensità che può essere in questo caso un respose può essere una qualsiasi forma di cluster set può essere un drop set quindi diminuisco leggermente il carico e il riparto aggiungo in questo caso magari 8 ripetizioni eccetera insomma tante forme differenti di lavoro però comunque il concetto alla base è sempre questo Lorenzo Fedrigotti chiede ciao Ludo allenamento a digiuno la mattina presto circa un'ora dopo la sveglia come gestire l'integrazione e l'intra workout e la cena il giorno prima grazie e mille volte complimenti qua risposto Gaetano comunque ti rispondo anch'io allora diciamo che tu in questo caso immagino che non fai un pre workout quindi perfetto a digiuno la mattina presto allenamento io quello che farei è un'integrazione molto importante di ciclo d'estrine quindi fino a dai 0,5 a un grammo per chilo di peso corporeo e una forma di idrolizzato proteico quindi un pool amminoacidico comunque completo che abbia però un alto grado di idrolisi quindi non idrolizzate chip che hanno però una minima quantità in realtà di tripeptidi quindi sono abbastanza inutili da questo punto di vista sono praticamente delle isolate ma delle buone idrolizzate io normalmente consiglio o le Alphatec che hanno un grado di ritenzione d'azoto pazzesco e sono un idrolizzato del salmone oppure le Evopep che anche queste hanno un altissimo grado di idrolisi quindi utilizzerei un 30 grammi di una delle due poi a questo punto finisci ad allenarti aspetti quella mezz'ora 40 minuti che ti tranquillizzi un pochetto eccetera e vai a fare il tuo post workout la sera prima non è tanto di impatto quello che fai la sera prima perché realmente è quello che fai dal workout prima tutto il giorno prima che va a ripristinare e saturare le scorte di glicogeno quindi è un po' un balance un bilancio di tutta quella che è la mole calorica e il cibo che vai a mangiare durante la giornata quindi non tanto il pasto la sera prima l'unico consiglio che ti posso dare fai un pasto che ti permetta di dormire bene quindi non sentirti ingolfato eccetera perché nel tuo caso il sonno è veramente determinante perché non hai margine di recupero di riposo che ti posso dire io se dormo male la notte prima dell'allenamento inserisco un piccolo nap un piccolo riposino magari subito dopo il pre-workout oppure subito dopo la colazione mi recupero un attimo il sonno sto meglio e quindi ho questo margine di intervento che tu non hai quindi cura tantissimo il sonno Leonardo Mazzoli chiede ciao Ludo come gestire le fibre in massa problemi digestivi legate a queste e quanto si possono abbassare nel lungo periodo allora si tratta di adattamento ragazzi ora l'intestino va saputo adattare non è che se un qualcosa fa male sul breve periodo deve necessariamente essere eliminata va eliminata se è un qualcosa che fa male punto però il nostro intestino è a un margine di adattamento e può benissimo sopportare una mola di fibre più alta problema è che vanno monitorate e nel momento in cui state a carboidrati alti vi allenate intensamente eccetera comunque per via di tutto lo stress che c'è sistemico lo stress specifico che il nostro apparato gastrointestinale può sopportare è ridotto rispetto a una persona sedentaria quindi mio consiglio le fibre semplicemente stai sui 30-35 grammi arrivaci gradualmente ma non scendere assolutamente troppo perché sono fondamentali ottime le fibre dell'avena quindi includi l'avena sicuramente nel tuo nel tuo panel e nella tua rosa delle fonti è ricca di beta glucani quindi impatta molto positivamente sul anche il profilo lipidico ematico quindi è una fonte straordinaria le patate dolci sono una fonte straordinaria che favoriscono molto la motilità intestinale gastrica vedi io vedo che molte io ad esempio vado benissimo con il riso molte persone hanno difficoltà con il riso che tende a creare problematiche in quel caso anche sciftare su una pasta può essere una buona soluzione se la digerisci bene e le fonti poi sono veramente tantissime però non diciamo scendere troppo con le fibre sicuramente è una buona soluzione le verdure moderale cioè io preferisco integrare con un buon multivitaminico eventualmente col super green o comunque con un panel di integratori che servono a un discorso di salute generale laddove ci siano carenze però comunque il multivitaminico inseriscilo di base le verdure si moderato perché di nuovo siamo builder quindi è difficile tenere un'alta quota di fibre nel nostro intestino la capacità di sopportazione dello stress è limitata perché il nostro organismo ha tantissimo a cui pensare da gestire per cui io preferisco generalmente tenere le verdure un po' più basse puntare molto sulle fibre dell'avena delle patate dolci comunque fotti di carbo dirette evitare l'integrale e utilizzare fonti raffinate laddove possibili che digeriamo bene questo è un po' il quadro vedi anche l'introito potreico perché è molto soggettivo però generalmente le proteine tendono a accentuare tutte problematiche di natura gastrointestinale ma questo è soggettivo io ad esempio 300 grammi di pro sto a una favola ci sono persone che non possono salire sopra i 150 ok quindi anche su questo basiamoci allora Vale Valerio Sulis ciao Ludo differenze bodybuilding in Italia e in Inghilterra o l'estero in generale se l'hai sperimentato ovviamente sì ho appena chiuso la call con Vale che abbiamo iniziato il coaching insieme quindi ti rispondo diretto allora guarda io e Giorgia vogliamo fare un video dedicato proprio a questo argomento quindi non voglio spoilerare niente ti dico solo la cosa principale la differenza principale che ho sperimentato nell'ambiente della palestra le due differenze la prima differenza è come vieni accolto come vengono accolte le persone ossia generalmente nelle palestre l'atteggiamento è molto più serio ci sono molti più atleti d'elite nei confronti delle altre persone c'è molta molta gioia nell'accoglierti cioè sono felici c'è un clima molto più positivo non c'è giudizio non c'è imbarazzo cioè se vedono che fai un movimento sbagliato magari ti correggono però non c'è giudizio guarda stato efficiente se c'è una persona grassa non c'è assolutamente body shaming se una persona è in massa ingrassa tanto e anche per le donne non gliene frega niente a nessuno quindi l'ambiente è super positivo sono super fomentati è molto più facile chiedere per esempio un video vengono molto a chiederti scusa che mi fai un video cioè è molto cioè te lo danno come imposizione della serie è naturale che me lo fai il video cioè siamo tutti amici tutti fratelli e oppure molto più facile ti servono spotter cioè questa cosa te la chiedono subito oppure o comunque che ne so vai a far gambe dice ah stai facendo gambe ti guardano così e ti dicono comunque se ti serve uno spotter chiamami io sto qua in sala cioè ma tutti capito anche gente che non ti conosce che non ti ha mai visto e quando fai il demone in sala che inizia a urlare tutti lo fanno cioè qua veramente quello che vedete nei miei video è niente qua si ammazzano tutti stai allenando a un certo punto senti delle grida che dici oddio qualcuno si è strappato si è rotto è entrato un assassino con una pistola no stanno semplicemente facendo gambe e quando fai queste cose queste scenate che in Italia magari ti guardano mano e ti dice guarda questo fomentino da lontano magari dall'altra sala vengono ti battono la spalla e dicono good set mates cioè bel set cazzo che figata oppure ti applaudono oppure ti guardano annuendo e ti sorridono che figata guardarti quindi l'ambiente è questo veramente e l'altro discorso ragazzi è che qua non esiste ma non sanno neanche che cosa vuol dire il buffer cioè è un qualcosa questo l'abbiamo visto anche a livello internazionale in generale ci sono qualche c'è qualche tecnico che va di moda che qua in Italia non so perché è stato recepito come il maggiore esperto questo è un grande esperto questo ma non se lo incula nessuno in realtà se non una piccola nicchia però qua se tu gli dici il buffer non sanno neanche il significato della parola buffer in palestra l'unica cosa che sanno è il rear quindi le reps in reserve però sanno che è una cosa legata molto al powerlifting e quindi quando gli dici no perché cioè in Italia si dice molto questa cosa di arrivare non arrivare a cedimento non arrivare al failure allora innanzitutto loro il failure è il cedimento totale quindi quello che noi potremmo definire un cedimento eccentrico cioè il muscolo smette di muoversi quindi quando arrivi a cedimento tecnico per loro può non essere considerato failure però loro quindi quando dicono molto spesso non vado a cedimento sentite magari anche in un'intervista non è inglese però Jay Cutter diceva no non vado a cedimento lui intendia che vada a cedimento tecnico ma non a quello muscolare però se tu gli dici ti fermi prima cioè lasci qualche reps in reserve loro ti guardano e dicono ma why cioè perché cioè se ne ho dieci perché vi devo fermare ad otto perché qual è il discorso di base cioè tu gli puoi fare anche la logica eccetera e che qua non c'è la paura del sovraffaticamento perché perché logicamente io lascio da stare persone che magari vengono in palestra due volte a settimana e cazzeggiano perché logicamente ci stanno anche qua i ragazzetti eccetera però diciamo che di media l'atleta è atleta cioè molte persone ti dicono io ho lasciato il lavoro perché faccio il bodybuilder io nella mia vita che cosa fai? faccio il bodybuilder cioè loro quando fanno bodybuilding non è un compromesso o un hobby eccetera no lo fanno come atleti cioè loro lo fanno per vincere il massimo per arrivare al massimo per competere al massimo cioè non c'è il in questo senso il compromesso quindi anche il discorso del recupero ok se devo aggiustare qualcosa sul recupero lo aggiusto però io di base in palestra mi alleno io in palestra devo dare il 110% di superare il mio limite e qua ricordiamoci che va molto come onda come cultura una cultura la Yates cioè una cultura di intensità massima ok diciamo la Gran Bretagna è stata molto poco toccata da tutta l'evidence based che non vuol dire che sono bro perché sono molto aperti sicuramente in Italia abbiamo molta più cultura sull'alimentazione l'allenamento la periodizzazione eccetera loro sono molto più empirici però vuoi anche che loro sono molto più terra terra cioè se io faccio il bodybuilder innanzitutto pochi cittano di media cioè il cheat settimanale pochi ce l'hanno in bulk mangiano sempre tendenzialmente pulito magari si inseriscono qualcosa un po' più di sporco quando stanno a calorie molto elevate quindi hanno anche difficoltà spingono tantissimo a livello di allenamento di cioè molto magna spigni con razio con logica inseriscono di mini cut però è veramente molto cioè mi spacco così tanto che poi arrivo a mangiare tantissimo e questo anche per le donne quindi diciamo che è proprio una mentalità differente per cui la palestra si vive come voi vedete che vi ho sempre trasmesso questa è una cosa che in Inghilterra è totale cioè è veramente totale è massima intensità massima spinta in palestra perché se io nel momento in cui metto il piede in palestra io sono atleta io faccio l'atleta come se fosse la mia professione ok e per molti è la professione ok quindi c'è proprio questa mentalità che è differente e se voi vedete io ho scritto una cosa su Instagram un altro giorno dovete distinguere quelli che in Italia sono gli influencer dagli atleti ecco questa distinzione qua non c'è nel senso che non ci sono persone che vengono perché devono farsi video devono far vedere il lifestyle eccetera loro se devono fare video loro pagano qualcuno per farli video ci sono un boato di videomaker in palestra è sempre pieno di videomaker da Gaz a Magic Media a tantissimi altri perché? perché loro si devono allenare quindi non si devono sbattere a fare video e non si devono sbattere a pensare alla camera a parlare cioè parlano perché spiegano però loro si allenano quindi è proprio una mentalità di atleta a 360 e per cui questo veramente è un sollievo però ragazzi vi far rendere conto come certi personaggi in Italia vanno proprio andrebbero messi da un lato e isolati tipo i bimbi antipatici no? a scuola e i bulletti a scuola o una roba del genere andrebbero proprio isolati perché sono influencer e questo sono fanno gli influencer quindi se dovete avere ispirazione a qualcuno nel bodybuilding dovete avere ispirazione da bodybuilder non da influencer sono cose totalmente diverse gente che pensa a vendere a vendere prodotti che sta sotto contratto con delle aziende per cui deve dire certe cose per cui deve far vedere certe cose da contratto ok? deve fare tot post quindi e deve in qualche modo marciare secondo una certa linea una certa onda che gli fa marciare gli fa avere più visualizzazioni più canali quindi è proprio logiche differenti rispetto all'atleta infatti una cosa che vedete è che su molti aspetti noi ci siamo evoluti nel corso degli anni perché non dobbiamo sottostare a niente ma semplicemente riportare la nostra esperienza quindi questa è una cosa importante allora Valerio Sulis mi chiede di nuovo in base a quali criteri scegli se accettare qualcuno nella tua rosa di atleti e cosa ricerchi da loro che rapporto cerchi di instaurare allora il mio rapporto prettamente umano a me non interessa avere il cavallo di razza che ti fa bene lo show che ti fa immagine che ti attira altri clienti che poi tratti di merda il mio è un rapporto umano nel senso che io dall'atleta che cosa ricerco ricerco innanzitutto una mentalità che sia affine alla mia o che comunque possa lavorare bene con me perché io sono molto complicato ragazzi come preparatore nel senso che io mi ci incazzo con i ragazzi ma mi ci litigo veramente quando ci sono delle cose che non vanno delle non curanze da parte loro e soprattutto pretendo un modus operandi che sia molto completo molto totale che non cioè si trova sempre il compromesso di tutto il bilanciamento di tutto vuoi cheat inserisci il cheat siamo più flessibili su alcuni aspetti ok deve essere un qualcosa che si porta avanti non è che devo essere dittatore o non devo fare arrivare all'Olimpia nessuno per ora però tendenzialmente ci deve essere un rapporto di massima trasparenza di massima fiducia e ci deve essere un rapporto soprattutto di collaborativo e non voglio sentire scuse cioè per me il discorso è non ci sono scuse se lavori con me dai il 110% l'altro giorno Marco ad esempio mi ha scritto e mi ha detto guarda devo partire per un viaggio per cui praticamente ho 4 sessioni attaccate sostanzialmente non credo di riuscire a recuperare di qua e di là ho detto che cosa faccio come mi gestisco cosa salto che cosa ti faccio ho detto chiudi la tua cazzo di bocca vai in palestra allenati punto cioè al massimo dopo mi dici guarda Ludo è andata male la sessione perché non ho recuperato ma non che prima mi dici non riesco a recuperare tutto e di nuovo io dico così perché a Marco gli voglio un bene dell'anima è venuto pure al nostro matrimonio quindi è questo il rapporto che stauro capito io è come se fosse me stesso cioè è come se fosse il mio cervello che mi dice cazzo ho 4 sessioni non devo recuperare ragazzi scusate parolacce io ero molto a ruota libera in questo perché mi faccio prendere trascinare dal flusso di emozioni è come se me stesso in testa ci fosse un meccanismo per cui mi dico oddio non riesco a recuperare che faccio di qua di là e a me stesso dico chiudi la cazzo di bocca con i ragazzi e logicamente ho bisogno di persone che questa cosa l'accettino cioè persone che vogliono il contentino oddio no perché questo allenamento c'ho paura di questo c'ho paura di quest'altro no perché io devo fare i passi perché sennò c'ho paura di sbaccare no perché non possiamo alzare le calorie oppure no perché non possiamo abbassare le calorie perché sennò c'ho fame e questo e quest'altro allora fai l'atleta punto cioè non esiste sì c'hai fame perché se devi aver fame tu devi accettare che c'hai fame cioè se fa parte del gioco accettalo punto non rompere i coglioni ok quindi ho bisogno di persone e voglio persone che siano su questa lunghezza d'onda che di nuovo non è un rapporto dittoriale perché chiedete a qualunque dimetletti c'è tanta comunicazione c'è tanto affidamento sui feedback che mi danno però sostanzialmente non ci devono essere fregne mosce ok quindi è abbastanza particolare è difficile da da spiegare però è sicuramente un rapporto quello che io instauro molto molto intimo con i ragazzi per cui non è un discorso che non ti voglio per qualsiasi ragione magari ma perché se io vedo una persona che non non riuscirà a collaborare con me a lavorare con me non sarà soddisfatto del mio lavoro non per una mia mancanza ma perché semplicemente c'è un'incompatibilità di base allora io semplicemente faccio un passo indietro e ti dico guarda non possiamo collaborare ok perché è una perdita di tempo per me come per te quindi non è un discorso ah devo fare la selezione perché devo avere soltanto gli atleti migliori perché se non sei un atleta che vale tot allora io non ti considero eccetera no assolutamente no a me può arrivare pure la persona che ha iniziato palestra oggi ma se arriva con una certa mentalità io cazzo sono felice perché per me il coaching deve essere una gioia cioè a parte tutto noi in questo momento abbiamo 5 aziende che stiamo portando avanti quindi capite come il coaching rivesta una certa percentuale di un totale più grande quindi per fortuna non sono nella posizione di dover dire devo avere quanti più clienti possibili e fare quanto più gente possibile no c'ho la fortuna di avere tante persone che chiedono il coaching e di poter fare un ragionamento del genere visto che io sono dell'idea che è la qualità prima di tutto deve venire prima di tutto e se io una cosa la faccio la devo far bene e se io devo offrire un servizio deve essere un servizio top semplicemente perché deve darmi gioia quindi io mi sentirei innanzitutto poco appagato mi sentirei frustrato mi sentirei una merda a fare una cosa fatta male semplicemente perché c'è un'incompatibilità di fondo oppure dar contentino alle persone perché hanno i loro pipimentali allora semplicemente così non lavoro quindi non è un discorso che deve essere visto come un dispetto come una selezione propria è una selezione per capire se puoi lavorare bene con me semplicemente questo è il discorso spero di essere stato chiaro ciao Ludo ci si può spremere ugualmente anche lavorando in full body su tre giorni a settimana? sì assolutamente anzi è sicuramente molto molto tassante e sicuramente puoi ottenere risultati devi aggiustare le cose per bene ci sono dei video su Rino Nation in cui vado a spiegare esattamente come impostare anche le singole full body quindi upper lower full body e le singole sessioni di allenamento allora Yamba Monti chiede quanti top set inserisce nel micro ciclo usi solo top set o anche set più conservativi allora di nuovo discorso top set o non diciamo che per top set intendiamo set super intensità allora set conservativi diciamo che se vuoi intendere tutte le forme di accumulo di fatica come serie scusami come serie allora sì nel senso che per esempio leg extension faccio serie da 8 ogni serie aumento un filo del carico sempre lavorando sulle 8 recupero 90 secondi 2 minuti non lo so dipende da come mi sento finché non arriva un carico che mi porti a cedimento oppure che mi impedisca di chiudere le 8 ora quante serie sono per me è una serie cioè uno schema dove alla fine c'ho soltanto un failure point e poche effettivamente effective reps ma tutto il lavoro prima è un lavoro diciamo che mi porta a accumulare fatica quindi funzionare a raggiungere quel failure point e quell'effective reps c'è tanta dispersione di energie ok però se contestualizzato bene ossia esercizio di isolamento quindi che non è troppo tassante lavoro graduale magari primo esercizio all'interno della sessione quindi mi devo comunque scaldare oppure un lavoro in cui voglio cercare di ridurre il più possibile i carichi per esempio di nuovo la leg extension non voglio avere troppe forze di taglio quindi arrivare a caricare troppo perché mi dà fastidio allora perdo tanto tempo eccetera ok per me è comunque una serie allenante per alcune persone diciamo che in altri casi magari in periodi in cui sto ad intensità più basse lo posso considerare due serie cioè la serie prima che è già abbastanza intensa forse al cedimento tecnico la vicino e poi la serie in cui non riesco a raggiungere le otto per alcune persone possono essere tre quattro serie ok quindi anche la serie più conservative dipende realmente ragazzi iniziate a ragionare sugli stimoli nel senso prendo i miei tre quattro esercizi per distretto che sono esercizi inseriti con logica e tutto il resto e do gli stimoli che devo dare non mi importa quante serie perché alla fine questi sono calcoli matematici ma il corpo non ragiona così quindi cerco di trovare il modo migliore per dare un certo stimolo al distretto muscolare semplicemente questo simple as that cioè veramente super super facile per top set io quanti ne inserisco diciamo dall'uno a massimo tre per distretto muscolare tipo sessione di ieri di petto ho fatto tre serie sulla prime chest press perché ho fatto una serie pesante iniziale poi ho fatto un back off e poi ho fatto una serie con tutto rallentato con un carico molto molto leggero perché tre perché è un macchinario che adoro che mi sventa nel petto quindi nel mio caso conviene all'interno della sessione aumentare un filo rosa di stimoli su quel macchinario perché è veramente veramente fantastico e essere magari un po' più conservativo dopo ho fatto due serie di dips ho fatto due serie di viking press e ho fatto una sola serie per esempio di panca inclinata avrei potuto fare due serie di chest prime di chest press alla prime e due serie di panca inclinata sì però dal momento che la panca inclinata non volevo dare troppi stimoli ma mi serviva soltanto uno nel lavoro specifico sulla prime valeva la pena dare più stimoli allora me la sono gestita così ok però generalmente non vado sopra le tre se non magari per i distretti piccoli come braccia o spalle in cui inizio a accumulare un po' più di lavoro perché è più sostenibile comunque poi nel dettaglio c'è il mio log su Renownation dove spiego assolutamente tutto quanto di ogni singola sessione allora andiamo avanti Cristiano Rizzelli quando imposti una scheda in upper body preferisci alternare un esercizio di spinta o di tirata o ti concentri più su un singolo di stretto e poi su un altro allora guarda dipende diciamo che lo scopo dell'upper body è quello di o di qualunque sessione quella di mettere ogni esercizio nella posizione in cui riesci a essere più performante quindi a me quello che piace fare è non alternare diciamo seguire un ordine logico ossia alternare spinta e trazione non mi piace perché devi lavorare di nuovo tantissimo nel caso dell'upper body sulla propria sessione in molti casi in alcuni casi ci può stare però in molti casi quello che preferisco fare è per esempio l'upper body un primo esercizio per il petto un secondo esercizio compound in super incline dove vado a lavorare un po' più sulle spalle sull'upper torso poi un esercizio di tirata verticale un esercizio di tirata orizzontale e poi eventualmente dei lavori di isolamento oppure tendenzialmente sì dei lavori di isolamento per le spalle e eventualmente sì per le braccia ci sono poi tante forme perché in genere vado a modificare un po' il tutto nelle rotazioni dipende anche la persona come si trova meglio in alcuni casi ad esempio persone che non hanno carichi troppo elevati allora mi piace inserire un compound più un isolamento quindi per esempio una chest press piana poi una super incline quindi lavora sempre l'appertorso poi delle chest flies ok chiudo con il petto inizio a lavorare il back faccio un esercizio di tirata verticale uno di tirata orizzontale se voglio dare la stessa enfasi inserisco pure un isolamento quindi per esempio un pull over per il back e poi chiudo con spalle e braccia in isolamento oppure un'altra alternativa è quella che inserisco un delle dips come esercizio di spinta quindi per esempio ecco partiamo con il back un'altra sessione in cui parto con il back inserisco un esercizio di tirata orizzontale uno di tirata verticale un pull over poi inserisco una chest press delle dips che mi portano poi a lavorare successivamente spalle e bicipiti magari non tocco neanche i tricipiti o ci metto poco volume perché ho già fatto le dips però in genere alternare sinceramente non è che mi faccia impazzire quindi spinta trazione spinta trazione non è esattamente la mia situazione ideale però se ho un atleta che lavora bene così e ha un'ottima capacità di performance in questo modo un'ottima enjoyability dell'allenamento in questo modo allora sicuramente può essere una soluzione ascoltate sempre il feedback dell'atleta allora Vittorio Bucaioni ciao Ludo so che le linee guida consigliano di stare a un rapporto sale acqua 1 a 1 ma se non riuscissi e stessi un po' più alto in massa quanto inficerebbe sulla condizione e soprattutto sull'allenamento nel caso avessi già provato su di te o qualche tuo atleta grazie in anticipo allora più alto immagino di rapporto quindi più alto di sale sinceramente dipende quanto pesi Vittorio perché non è troppo un problema perché il corpo trova sempre la sua omostasi non è ideale però queste sono cose a cui essere molto molto attento quando parliamo di atleti in Hanst e atleti che pesano tanto perché ci sono problemi di pressione in quel caso quindi io sugli atleti in bulk che ho in Hanst preferisco sempre consigliare di stare bassi col sale il più possibile concentrarlo ridotto all'allenamento però realmente se ho un atleta che ha la pressione tendenzialmente poi dipende ovviamente come è una pressione però tendenzialmente elevata allora va la pena perché il fabbisogno di sale è abbastanza basso normalmente mentre logicamente vado a curarlo di più e aumentarlo in fase di contest prep perché siamo in un discorso in cui il peso è più basso ci sono meno problemi di pressione e logicamente funzionale a mantenere una certa pienezza muscolare una certa condizione sul palco però sinceramente se ti dovessi dare un consiglio Vittorio semplicemente vai a mangiare a bere di più forza di bere più veramente due litri nell'intra workout un litro prima un litro prima nel senso tutte le ore prima dell'allenamento un litro e mezzo in tutte le ore prima dell'allenamento un litro e mezzo dopo sei già cinque litri così e non ci dovrebbero essere troppi problemi e abituati soprattutto a salare meno è una questione veramente di palato quindi non vedo grandi problemi da questo punto di vista Ivo di Criscio ciao Ludo prima domanda la berbe quando è meglio mangiarla vicino al workout e a cosa serve il melograno allora più o meno sono entrambi degli alimenti che portano a stimolazione dell'ossido nitrico guarda Gaetano che si sbizzarrisce a rispondere a tutti allora stimolatori dell'ossido nitrico pre-workout se mangi due ore prima allora ci può stare perché comunque contiene fibre è un po' più lenta la digestione rispetto a alimenti un po' più easy e quindi sì come consiglio io ho questo però realmente non ti fa tutta questa grande differenza in termini di pompaggio io mi piace utilizzarla in fase di cut perché ho calorie un po' più basse quindi è un alimento che diciamo riesco a gestire e far rientrare comunque non impatta troppo sull'introito calorico e mi dà quel piccolo aiuto in più per avere un po' più di pienezza però è veramente veramente minimo il melograno stesso discorso sono stimolatori dell'ossido nitrico allora Marco Iannili JP ritiene che per mantenere massa muscolare serva meno effort rispetto a quanto ne serva per costruire che è assolutamente vero se questo fosse vero basterebbero pochi set pesanti per mantenere volumi per i quali sei investito pesi qual è il tuo pensiero in merito allora Marco il discorso ho riuscito a risponderti alla fine il discorso è questo se hai carichi molto molto pesanti può aver senso però una delle cose che sto notando qua in Inghilterra dove va molto questo approccio è che gli atleti in preparazione sono veramente cotti a livello di neurale e diciamo questo rende la preparazione molto molto difficile da sostenere con un eccessivo rischio di resistenza insulinica incapacità di fare carbs up eccetera infatti diciamo che la cosa che vedo di questi atleti è che hanno non raggiungono inizialmente la top condition la raggiungono soltanto quando gli crollano i carichi quindi per forza di cose i carichi sono crollati non riescono più a gestirli sono un po' più cotti quindi iniziano inconsciamente ad essere più blandi in allenamento e là inizia ad esserci una bella risposta una bella trasformazione ora quello che ti dico è che sicuramente serve meno impegno in fasi di cut io in fasi di cut tendenzialmente tengo le cose come stanno al massimo se devo incentivare un po' di più preferisco shiftare su lavori metabolici mi trovo meglio almeno in una fase in cui è vitale scendere a livello di bf perché perché ti trovi in un assetto in cui dai quello stimolo minimo necessario per conservare il tessuto muscolare crei tanta iperemia i carichi non saranno alti quindi c'è meno rischio infortuni meno stress neurale quindi non vai incontro a fenomeni di resistenza insulica paradossa per cui la cortisolemia ti porta ad avere tanto stress che ti porta a gestire male carbo quindi è diciamo uno sweet spot molto molto interessante quindi sì ti direi questa è una cosa che preferisco e poi ridurre il volume al massimo cercare un po' più lavori pesanti ma semplici senza tecnica e tutto il resto nelle ultime fasi quando vai a fare un po' un carzappo in cui vuoi avere anche meno dispendio energetico per non dover forzare troppo il cibo questa è un po' la mia idea e il lavoro con cui mi trovo generalmente meglio ma continuare a fare lavori molto pesanti per tutta la preparazione non la vedo una cosa troppo funzionale ok non ho visto mai risposte interessanti allora artlehum periodo di lavoro isocinetico isometrico per molti articolari per aumentare i carichi che ne pensi allora il discorso è che sono lavori che ti permettono di aumentare tanto la forza sicuramente ma soltanto in quel dato tratto di rom quindi sì ti consiglio inserirli però fallo nel tratto di rom che è limitante se c'è un tratto di rom limitante che normalmente è lo sticking point e in questo caso sono funzionali per cui sì assolutamente fanno il loro lavoro allora Cristiano Rizzelli di nuovo mi sembra ciao Ludo ho visto come segui le spinte nell'ultima storia credi che il rom di movimento ottimale sia quello quindi senza una concentrica così pronunciata quindi non vado a chiudere ok grazie su un punto di riferimento nella tua bodybuilding allora Cristiano Nì nel senso che quando tu stai in alto alla fine della concentrica in un lavoro di spinte con manubri il problema è che non hai più tensione sul petto nel senso che tutta la tensione è data dalla reazione vincolare del tuo dell'unna del radio dell'omero della spalla quindi realmente non ha senso arrivare secondo me a quel punto se non nel caso in cui vai a effettuare e forzare uno squeeze del petto cioè vai proprio a strizzarlo per avere una migliore connessione eccetera a me comunque non piace perché mette sotto rischio la spalla a livello di infortuni quindi preferisco sempre fermarmi un filo prima quando si tratta di spinte con manubri questo è poi io ho tendenzialmente legamenti lassi quindi a me è un attimo che quando vado in alto in lockout mi si sublussi cosa diversa in un ice express è un macchinario che ti garantisce comunque una buona tensione più sicurezza esecutiva alla fine della concentrica in questo caso andare a strizzare può essere una buona soluzione ma cerca di sentire bene se la spalla è salda se non ti dà problemi allora Dx Daniel Meloni come gestisci i carbo quando sono bassi non so nello specifico a cosa ti riferisci comunque generalmente la vado a li vado a concentrare il più possibile per i workout nutrition non tolgo mai l'intra workout che è un errore che fanno molti perché mi permette di mantenere un'ottima performance quindi quello lo mantengo e continuo così e sì generalmente questo credo allora Samuele Gattuso ciao Ludo domanda se io faccio 5 serie allenanti i bicipiti mi vengono fuori la prima 20 ripetizioni la seconda 18 18 16 e 16 come cedimento tecnico è giusto come lavoro si sta accomodando soltanto fatica devi semplicemente vedere se vale la pena insistere con lo stesso carico quindi dare sempre la stessa botta lo stesso stimolo con lo stesso carico oppure vale la pena differenziare il carico e quindi variare un pochetto realmente questo dipende da te di un attimo cercare di capire in base a come è impostato l'allenamento a me generalmente quello che piace fare è variare un po' di più il carico quindi fare magari una serie ecco per esempio uno schema che è molto carino una serie media carico medio una serie a carico pesante quindi la prima da 8-10 la seconda da 6-8 e la terza invece torno a lavorare molto più leggero sulle 12-15 ok se devo aumentare il volume cambio esercizio generalmente 4 con lo stesso carico non è esattamente l'ideale diciamo che non mi fa impazzire come scelta Giuse Angelino chiede sicuramente non stai facendo ah per la foto ok Luca Casoria Ludo ma la pasta di cacao consiglio di mangiarla nel pre-workout cioè 2 ore 2 ore e mezza prima dell'allenamento o ridosso dell'allenamento no un pasto pre-workout serve un po' a rallentare tutti i processi digestivi eccetera quindi si un po' prima diciamo rispetto non proprio sotto al ridosso perché è un po' più lenta da digerire quindi tranquillamente quelle due orette prima è secondo me la soluzione ideale Andre Gitu l'unità sul libro uscirà a dicembre ragazzi questa è la data che ci siamo fissati sperando non ci sono i ritardi dovuti al covid però generalmente dovrebbe uscire a dicembre sarà veramente veramente una mina sono quasi 500 pagine no più di 500 pagine di lavoro e veramente super completo sarà il primo volume poi uscirà il secondo volume in cui andremo a parlare dei sistemi di allenamento alimentazione integrazione agonismo eccetera eccetera allora Glauco Fantauzzi pensi sia fondamentale la presenza dei famosi tre big per una programmazione centrata sull'ipertrofia no assolutamente no diciamo che per il neofita consiglio investire molto tempo ad apprenderli perché hanno molti vantaggi soprattutto a livello di maturazione dell'atleta a livello proprio progettivo eccetera però per gli altri casi no direi che non sono assolutamente essenziali e fondamentali sono fondamentali se li senti bene se quindi riescono a sviluppare bene il tuo distretto target il distretto che vuoi lavorare migliorare quindi se fai uno squat e senti soltanto le gambe cazzo un bel esercizio se fai una panca e senti molto bene il petto è un fantastico esercizio gli stacchi io preferisco in generale delle varianti che sicuramente includerei quelle quindi i rack pulls steve legs smith pulls sono tutte varianti che sono molto interessanti perché danno una buona enfasi per gluteo e femorale soprattutto quindi sicuramente andrei a inserirli però per il resto no niente di essenziale allora Franz Bicius ultima domanda ciao Ludo visto che un preparatore in Italia lavora tanto con lavori metabolici e minutaggio tipo 15 minuti consecutivi squat libero cosa ne pensi grande e continua così allora ragazzi che cagata è sta roba 15 minuti di squat libero una roba allora io questo quello che mi hanno insegnato e fatto fare con questi lavori è considerarli cardio ok innanzitutto e come cardio devi capire quanto impattano sul sul discorso di di recupero la tua capacità concreta di recupero per cui all'inizio nelle prime fasi di cut è molto interessante ad esempio una cosa che inserivo nelle prime fasi di cut per esempio ti fai del cardio e poi fai 500 squat o 1000 squat liberi super efficace super interessante crea una proliferazione mitocondriale una capacità mitocondriale bellissima sui distretti però poi devi andare a scaricare perché ovviamente impattano tanto il recupero quindi nelle fasi più avanzate del cut conviene scaricarle però ragazzi questi non sono lavori ipertrofici cioè Cristo Santo non carichi niente c'è veramente la minima tensione meccanica e non raggiungi comunque il cedimento perché 15 minuti cedi più che altro per il dolore per il bruciore e per la testa più che un cedimento muscolare vero e proprio quindi Cristo Santo è una cagata bestiale sinceramente ok vi faccio un'ultima domanda Ismail Amrani la forma di creatina Creapur è la stessa venduta da tutti i brand di integrazione sì se è brevettata sì almeno per legge a meno che non facciano delle cose in quel caso al primo controllo li distruggono però se c'è il brevetto Creapur vuol dire che è Creapur devi vedere se è tutta Creapur perché ogni tanto magari inseriscono perché c'è una percentuale che però difficilmente fanno queste cagate qua però questo è ok ragazzi allora sì ho fatto tre quarti d'ora ma sostanzialmente non ho veramente più voce quindi credo che questo Q&A lo ridurrò a 45 minuti prima di arrivare a essere un po' più allenato e nei prossimi spero di iniziare a fare qualche Q&A con qualche atleta con qualche preparatore per condividere le loro esperienze e aprirò questa rubrica di podcast che credo chiamerò Italian Bodybuilding Podcast semplicemente perché podcast del bodybuilding italiano è veramente brutto sentirsi e voglio che tutti nel mondo sappiano di cosa parliamo perché voglio cercare di portarvi sul canale tanti tecnici che sono di spessore che sono di importanza in Italia per farvi capire esattamente qual è il patrimonio del bodybuilding italiano e chi invece deve essere tenuto fuori da questo da questa identificazione perché di bodybuilding non ha assolutamente niente quindi niente lancerò questa serie mi sto organizzando con un po' di atleti tecnici e tutto quindi spero che verrà molto molto bello ragazzi qualsiasi domanda scrivete qua sotto come al solito vi ricordo che questo podcast sta anche su Spotify dove spero che si senta meglio perché mi hanno detto che su YouTube tende a sentirsi basso quindi trovate tutto quanto e niente fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate logicamente ogni vostro apprezzamento è super utile e logicamente ogni vostra condivisione è super utile in modo da far conoscere bene questo canale un po' a tutti quanti e vi ringrazio e vi rimando ai prossimi video della prossima settimana e vi ricordo che lancerò un post su Instagram dove andrò a proprio fare il Q&A quindi permettervi di fare le domande per cui ci vediamo la prossima settimana buona domenica a tutti quanti